Una parte di Polifemo dedicata al primo consiglio comunale di Leporano, si è insediata la nuova amministrazione comunale, sono state conferite le varie deleghe assessorili, il sindaco ha pronunciato il suo discorso in cui ha evidenziato i punti programmatici di quella che sarà la sua amministrazione e cercheremo di scoprire un po' uno per uno i volti nuovi di questa amministrazione, ascolteremo anche l'opposizione, Leporano parte con l'amministrazione targata Vincenzo Damiano. Il primo cittadino di Leporano, il dottor Vincenzo Damiano, nel suo intervento ha evidenziato oltre a quelli che sono i punti programmatici di quella che sarà l'azione amministrativa, ha evidenziato un rapporto diretto con la città, con la collettività Leporanese. Anche la volontà di tenere questa prima assise qui in piazza è significativo, è emblematico di una gestione partecipata. Sicuramente, abbiamo deciso tutti insieme di tenere questo primo consiglio comunale in piazza proprio per dare la possibilità di una più ampia partecipazione di tutti i cittadini leporanesi. Come ho detto più volte, anche in campagna elettorale, per me personalmente e anche per tutta la mia squadra è importante avere un colloquio e un dialogo continuo con i cittadini perché noi possiamo imparare molto da loro, cioè attendiamo quelli che sono i loro suggerimenti, segnalazioni di situazioni da risolvere e quindi noi saremo sempre disponibili all'ascolto attivo del cittadino. Lei sindaco ha anche auspicato una, tra virgolette, pacificazione, una unità di intenti nell'interesse del perseguimento del bene comune. Sicuramente, è interesse di tutti far crescere questo territorio, quindi ritengo, cioè da parte mia ci sarà sempre la disponibilità, come ho detto, ad un dialogo leale e costruttivo con la minoranza spero che questo avvenga anche da parte loro, diciamo è giusto che loro controllino la nostra attività amministrativa e io ho chiesto comunque anche a loro dei suggerimenti in maniera che tutti insieme possiamo far crescere questo territorio. L'avvocato Filippo Pavone, vice sindaco di Leporano, con quali altre deleghe assessorili? Delega ai contratti, agli appalti, al personale, alle politiche demaniali, alla protezione civile, polizia locale, comunicazione istituzionale e tutela degli animali. Beh, un bel impegno gravoso. È un grande onore aver avuto questa fiducia da parte del sindaco e dagli altri membri della giunta ma dell'intera amministrazione. Ritengo che ci spettano cinque anni di impegno costante. Mi piace utilizzare un'immagine, rimbocchiamoci le maniche tutti quanti per lavorare perché Leporano ha davvero bisogno di tanto impegno, ma davvero tanto. Un giovane per i giovani, si potrebbe dire. Sì, lo slogan della mia campagna elettorale era adesso tocca a noi, cioè la volontà di cambiare finalmente passo in termini di politica, Leporano, finalmente lasciamoci via, lasciamoci dietro le vecchie generazioni politiche e finalmente apriamo i trentenni, i ventenni che hanno voglia di vivere questo territorio. La new age? No, new age no. No, diciamo persone che hanno seri valori in testa, però hanno voglia di tradurli con innovazione, entusiasmo e voglia di fare. Vincenzo Zaccaria, titolare delle deleghe, le stiamo passando tutte in rassegna. Ho sentito, ascoltando i lavori del Consiglio deleghe in ambito di lavori pubblici, di urbanistica, spieghiamole meglio e soprattutto con quale spirito, qual è il suo approccio alla gestione amministrativa della cosa pubblica in questi settori. Intanto vorrei fare un ringraziamento a tutti gli amici elettori che mi hanno dato la possibilità di rappresentarli nuovamente in questa stise. Vorrei ringraziare fortemente il sindaco dottor Vincenzo Damiano e voglio ringraziare anche gli amici consiglieri amministratori per il lungo percorso che dovremmo fare. Niente, in questi giorni ci stiamo dando molto da fare attraverso la pulizia delle spiagge, attraverso la pulizia del territorio. Niente, che dire, l'entusiasmo è tanto e noi ce la metteremo tutta. In bocca al lupo. Grazie. Il neoassessore Elena Galeone, quali le deleghe conferitele? Istruzione e politiche dell'infanzia, commercio e attività produttive, ecologia e ambienta. Devo dire deleghe importanti, soprattutto in materia ambientale, ma anche proprio la pubblica istruzione, l'infanzia, la crescita di quelli che saranno le future generazioni. Sì, sono deleghe che ho scelto io personalmente perché amo i bambini. Sentiva più vicini alla sua sensibilità. Penso che bisogna partire da loro per creare qualcosa di nuovo, un mondo migliore. Per quanto riguarda l'ecologia io spero di fare il meglio possibile perché il nostro territorio ne ha bisogno. E per quanto riguarda il commercio, sono un ex commerciante, quindi conosco bene le problematiche del territorio e vorrei impegnarmi anche in quello. Volti nuovi, volti giovani, un volto femminile, quello appunto di Silvia Di Taranto, neo-assessore del comune di Leporano. Con quali deleghe? Alle politiche sociali principalmente, servizi alla famiglia, al cittadino, associazionismo, servizio sociale, servizi cimiteriali, politiche della famiglia, quindi una serie di deleghe che mirano proprio al welfare. È un impegno certamente pesante considerando il momento difficile che vive l'area ionica, alla comunità leporanese, saper dare risposte ai cittadini in stato di difficoltà. Assolutamente sì, ma credo fortemente nel progetto che abbiamo. Abbiamo validi collaboratori, le idee ci sono, quindi credo che non ci saranno problemi a offrire al cittadino quello che effettivamente merita, soprattutto alle fasce più deboli. Un'amministrazione comunale, quella di Leporano, la nuova, la neo-insediata amministrazione che presenta volti nuovi all'insegna del rinnovamento e in questa ottica Serena Tardiota. È la prima seduta, devo ancora memorizzare bene le deleghe che sono state conferite e allora Serena Tardiota, come dire, si presenti da sola quanto a deleghe assessorini? Buonasera a tutti, le mie deleghe ufficializzate oggi sono sport, politiche giovanili, tempo libero, impiantistica sportiva, corsi di formazione professionale e soprattutto per i giovani ma soprattutto per la nostra comunità perché io amo il mio territorio e amo la mia terra. Franco Davanzo, neo-presidente del Consiglio Comunale di Leporano, un ruolo istituzionale importante, dovrà essere Superpartes. Certo, certo, a parte che lo stabilisce il terzo comma dell'articolo 39 del decreto legislativo 267 del 2000. Sarò un presidente Superpartes, la mia porta dell'ufficio è aperta a tutti e il presidente vorrà coordinare, dirigere tutte le operazioni che hanno a che fare con il Consiglio Comunale. Mi impegnerò per quanto riguarda le convocazioni e questo sarà il mio compito, il mio ruolo. Poi tutto il resto avverrà sicuramente in quella assise e andremo avanti con i lavori. La dottoressa Yolanda Lotta, neo-consigliere comunale di Leporano, era candidato sindaco con Lotta per Leporano, ora siede ai banchi dell'opposizione. Lei ha accennato a un ruolo di opposizione costruttiva comunque nell'interesse della collettività. Io con la mia squadra tutta, Lotta per Leporano, vogliamo portare avanti questo principio, il principio di un'opposizione costruttiva per il bene comune e faremo un'opposizione che sia un'opposizione senza, non vogliamo né nemici, non vogliamo veramente lavorare per il bene della comunità tutta perché riteniamo che Leporano sia la casa di tutti Leporanesi. Lei ha considerato anche proprio nei giorni scorsi delle problematiche di natura ambientale che riguardano voi Leporano, voi Pulsano? Noi abbiamo detto fortemente no all'impianto di compostaggio che si sta facendo a Pulsano e penso che tutta Leporano si deve riunire in questo forte, voglio dire, problema. L'avvocato Angelo D'Abramo, già sindaco di Leporano, ora siede tra i banchi dell'opposizione, ha perso le elezioni per soli 120 voti, ora che tipo di opposizione intende porre in essere? Un'opposizione che sarà molto attenta e vigile su quella che è l'attività di questa amministrazione. Noi comunque staremo sempre a fianco della popolazione, porteremo avanti, seguiremo i lavori che già avrebbero dovuto farci fare nel 2018 e che ci bocciarono in Consiglio Comunale. Quindi staremo molto attenti affinché questi lavori siano realizzati e in Consiglio Comunale noi avremo la responsabilità nei confronti di tutti i cittadini, il 65% che oggi è all'opposizione rispetto al 33% che è chiamato per legge a governare questo Paese. Quindi abbiamo tantissima responsabilità e abbiamo questo onere, questo dovere di portare avanti nel bene della comunità.